numero 5 l'asus zenbook duo 14 ux 482 è un ultrabook compatto e leggero perfetto per ogni situazione dotato di un processore intel core i7 quad core a 2,8 gigahertz 16 gigabyte di ram e un hd di da 512 gigabyte con tecnologia ssd garantisce una potenza di calcolo eccellente e un'esperienza di utilizzo senza rallentamenti il display touchscreen da 14 pollici full hd consente di usare l'ultrabook sia come laptop che come tablet mentre il peso di 1,5 kg lo rende facilmente trasportabile il design minimalista è di grande impatto visivo confermando la qualità di questo dispositivo è un'ottima scelta per chi cerca un ultrabook convertibile dal buon rapporto qualità prezzo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 il macbook pro di apple è un dispositivo perfetto per chi desidera un ultrabook da usare come sostituto del desktop rimanendo nell'ecosistema apple il display liquid retina x dr da 16,2 pollici è di altissima qualità e con una risoluzione di 3456 x 2234 pixel offrendo un'esperienza visiva incredibile il peso di 2,15 kg potrebbe essere un po elevato se si vuole utilizzare il portatile in mobilità all'interno di questo dispositivo troviamo il chip apple m1 pro con cpu 10 core e gpu 16 core 16 gigabyte di ram e un ssd da un terabyte di spazio di archiviazione la batteria è eccellente e consente una durata di 21 ore in riproduzione multimediale e 14 in navigazione web con connettività wireless sulle estremità è presente una porta hdmi tre porte usbc puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 il del x ps 13 è uno degli ultrabook 13 pollici più apprezzati sul mercato il processore intel core i7 quad core di undicesima generazione insieme a 16 gigabyte di ram sdra e un hard disk da un terabyte ssd garantiscono una velocità di trasferimento e caricamento superiori il sistema operativo è windows 10 pro lo schermo da 13,3 pollici con risoluzione 3840 per 2400 pixel lo rende un portatile ultra compatto ma comunque comodo da usare la scheda grafica integrata offre immagini e colori di qualità il design è davvero curato e moderno con linee morbide e finiture di classe se cercate un computer potente ma allo stesso tempo trasportabile leggero e versatile in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 il lenovo think pad x1 carbon è un gioiello di tecnologia estetica e prestazioni con la sua nona generazione questo modello è sicuramente uno degli ultrabook più desiderabili sul mercato si tratta di un computer sottile e leggero con un peso di 1,13 kg e uno spessore di 1,49 centimetri il display da 14 pollici offre un ottimo compromesso tra portabilità e comfort visivo con risoluzioni fhd e ultra hd più con supporto a dolby vision per le prestazioni lenovo ha dotato l'x1 carbon di un processore intel core i7 1165 g7 di undicesima generazione con velocità base di 2,8 gigahertz 8 gigabyte di ram e una scheda grafica intel iris xe per l'archiviazione dei dati e l'installazione dei programmi c'è un capiente ssd da un terabyte il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 il del x ps 15 è un ultrabook di alto livello progettato per fornire ai professionisti un portatile veloce ed affidabile senza compromessi dotato di un processore intel core i7 a 6 core con frequenza di clock fino a 4,5 gigahertz 16 gigabyte di ram con tecnologia ddr4 e 512 gigabyte di storage con tecnologia ssd questo computer è capace di soddisfare le esigenze di chiunque lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione full hd offre una grandezza comoda per lavorare senza affaticare troppo l'occhio mentre le dimensioni di 49 per 33 per 8,8 centimetri e il peso di appena 1,8 chilogrammi rendono l'x ps 15 facilmente trasportabile se si cerca un portatile di alta qualità con prestazioni eccellenti è un'ottima scelta se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione